La società di gestione del risparmio è una società un po' particolare, un po' speciale, è una società per azioni, quindi è una società che ha un suo obiettivo sociale, ha uno statuto, ma che cosa fa la società di gestione del risparmio? Gestisce il risparmio, quindi in qualche modo è specializzata nel far fare investimenti più possibili, redditizi e diversificati alla propria clientela, ma cosa fa l'SGR? Prima di tutto gestisce, costituisce fondi comuni di investimento, quindi in realtà la società di gestione per prima cosa gestisce grandi portafogli, quei portafogli che sono costituiti dai piccoli soggetti che danno soldi al fondo comune di investimento, una SGR quindi è un soggetto molto competente che può costituire e gestire diversi fondi comuni di investimento con caratterizzazioni più o meno differenziate, quindi è una società che fa questo particolare tipo di mestiere che si chiama gestione collettiva del risparmio, ma non solo, l'SGR può anche ottenere il mandato per gestire singoli portafogli di singoli soggetti che però, ad esempio una banca non è in grado di gestire direttamente lei, perché non ritiene di avere delle competenze, magari una banca di più piccole o di medie dimensioni, quindi l'SGR può anche decidere lei di gestire singoli portafogli di clienti di alcune banche. Perché lo fa l'SGR? Evidentemente lo fa perché vuole guadagnare dei soldi, quindi ottiene delle commissioni di gestione, delle commissioni di negoziazione per le operazioni che vengono fatte e quindi ha come obiettivo gestire al meglio questo tipo di attività. Quante sono le SGR? Sono tante o sono poche? Prima di tutto va detto che hanno trovato cittadinanza nel nostro Paese a metà degli anni 90, a seguito di tutta una serie di riforme e quindi hanno una loro presenza relativamente nuova. Sono costituite prevalentemente da banche, quindi banche che hanno deciso di spostare all'esterno un'attività che è molto specialistica e quindi non fanno al proprio interno, oppure alcune SGR sono state costituite da soggetti autonomi specializzati nel fare questo mestiere. cosa fa l'SGR? Oltre a gestire il risparmio opera anche tutta una serie di altre attività correlate alla gestione del risparmio, ad esempio la consulenza, la negoziazione, può anche intervenire nel collocare determinati strumenti finanziari, quindi diciamo che l'SGR è un soggetto importantissimo in quella fase particolare che è appunto la gestione del risparmio. Che competenze ci vogliono? Evidentemente gestire un SGR significa avere sicuramente competenze in ambito finanziario, ma non solo, vuol dire anche avere un approccio commerciale con la clientela, riuscire a emettere e fare prodotti nuovi che sono sempre in qualche modo alla moda, quindi proporre fondi comuni di investimento o gestioni patrimoniali particolari che sono attraenti per poter acquisire clientela. Non dimentichiamo che è un'impresa e quindi come tutte le imprese è evocata al guadagno, quindi all'utile, ma deve farlo proponendo prodotti via via sempre più nuovi e innovativi.